L'innovazione tecnologica e i modelli di business, proprio nel momento in cui il sistema energetico passa verso una vera grid parity, quindi l'irrilevanza degli incentivi per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile diventa un fattore strategico di estrema importanza. In particolare l'innovazione tecnologica riguarderà alcuni aspetti essenziali che sono relativi alla gestione della complessità, quindi la gestione di tantissimi dati provenienti da milioni di produttori e lo storage, la capacità cioè di immagazzinare l'energia prodotta e poterla riutilizzare nei momenti di picco, allora quando le fonti rinnovabili in realtà non riescono più a sopperire la necessità. Questo cambiamento di paradigma dell'intero sistema impone la necessità di redefinire le regole del gioco all'interno delle quali sia possibile dare certezza agli investitori in una chiave molto tecnologica. La tecnologia sta fornendo già un'ampia gamma di soluzioni a questa complessità. Ovviamente se le regole aiutano questa complessità a tradursi in nuovi investimenti, in nuove realtà impreditoriali, tutto questo diventa affrontabile in breve tempo o quantomeno coerente con l'agenda prevista dal Piano Nazionale Energia e Clima.